Salve, buongiorno, buongiorno, sono Marco della Ferro Libri, mi occupo dell'ufficio formazione e chiamiamo subito la nostra ospite, la professoressa Orietta Candelaresi. Orietta, sei con noi? Eccomi, mi vedrete? Bene, bene, avevo pensato di fare un piccolo spieghino per giustificare questi minuti di ritardo, ma ho detto, li faccio insieme a te, quindi aiutami, ti prego, dovete sapere, cari amiche, cari amici che ci seguite, che noi facciamo tante di quelle prove per questi diretti incredibili, abbiamo super collegamenti fibra, server mostruosi, ma poi come si dice, l'imponderabile è sempre dietro l'angolo. Però, come vedete, siamo qua, siamo in diretta e ci tenevamo veramente, io personalmente ci tengo tantissimo a questa iniziativa e tutta la casa editrice non vedeva l'ora di averti nostra ospite, perché oggi il tema è molto importante, si sono iscritti, sanno esattamente di cosa parleremo oggi. Io volevo prima di tutto presentarti, perché ecco, io ti chiamo a Corietta, la professoressa Candelaresi, è una pedalcogista, è una formatrice, collabora con la casa editrice in qualità di coordinamento del team che è stato creato per quanto riguarda il marchio nuovo, siamo pari. Io, ecco, faccio una premessa, ma ovviamente Orietta saprà spiegare molto meglio di me, ma non ci sono problemi su questo. Noi avevamo abbracciato il marchio pulite da anni, abbiamo sempre avuto una grande attenzione su tutto quello che è l'aspetto per quanto riguarda la parità di genere, di quanto riguarda l'inclusione, di cercare proprio in tutti i dettagli di favorire o ricambio un nuovo, una nuova cultura che parta dal basso, una rivoluzione culturale e con Orietta ci siamo trovati molto bene, anche perché ho avuto il piacere di seguire una conferenza che abbiamo fatto in sala riunioni, dove eravamo tutta la casa editrice, quindi non solo la redazione che ci sta ascoltando, ma dal primo dei grafici all'ultimo dei responsabili eravamo tutti. Orietta, come ci hai trovato? eravamo pronti e dovuto rifare tutto da capo. E questa è una bella domanda. Non te l'aspettavi questa? No, questa non me l'aspettavo. Comunque è una bella domanda. Comunque grazie innanzitutto dell'invito e di questa opportunità e di questo spazio che la casa editrice offre per riflettere su un argomento che nell'ambito scolastico diciamo è poco tra virgolette curato, è anche poco sentito, poco percepito e quindi è importante che una casa editrice poi lo vedremo, ne parleremo in modo più approfondito, dia lo spazio, dia anche input, dia anche input, l'input alla scuola e ai docenti, insomma a chi si occupa di di insegnamento e di educazione a questa tematica. Rispondo alla domanda, diciamo non vi ho trovato come casa editrice, come operatori e operatrici della casa editrice Raffarello così impreparati, anzi, siamo partiti da una buona base. Ecco, se ricordo il corso di formazione che abbiamo fatto insieme quest'estate, è stato un percorso, sono state due o tre giornate veramente molto molto significative perché c'è stato un confronto molto molto profico. Ecco. Bene, mi fa molto piacere, anche perché personalmente io per il lavoro e quello di cui mi occupo, ho il piacere di incontrare molti i tuoi colleghi, autori, formatori e voglio dire due cose, ieri abbiamo avuto ospite Antonio Damegiani e Luciano Piatella che sono gli autori del corso per quanto scopro studiando il sussidiario, bellissimo tra l'altro, e Luciano a fine webinar ha detto una frase che mi ha colpito molto. Si parlava delle immagini, della fotografia inserite, ha detto perché Marco, vedi, tutti hanno diritto alla bellezza, alle cose belle e quindi io sono assolutamente d'accordo. Ma molte volte, noi immaginiamo, noi siamo pieni di libri, ma molte volte ci sono case dove sono i libri di scuola gli unici presenti. Quindi avere un libro che sia comunque sia, non solo bello, ma che sia che abbia in sé quei principi che ormai ai giorni d'oggi non possiamo più permetterci di non avere, di fare questa rivoluzione del basso perché bisogna basta di leggere certe cose sui giornali, è molto importante. E per questo ci tenevo veramente molto che questo webinar sia uno scambio, perché qui non si ha la presunzione di venire a insegnare agli insegnanti, si ha l'idea di offrire un mondo accademico che collabora con l'editoria scolastica e che sia subito spendibile. Quindi ecco, domande, consigli, con la funzione domande e risposte potete già avviarli, stanno già arrivando. Io adesso me ne vado, non voglio rubare troppo tempo, tornerò nella parte conclusiva di questo webinar che da lunedì, non prima di lunedì, ma da lunedì con lei vi renderanno disponibile su Raffaello Formazione, comprese le slide che fra poco Orietta utilizzerà e leggerò le domande che arriveranno tra domande e risposte. Quindi Orietta, buona diretta, se serve noi siamo qua e ci vediamo più tardi. Va bene Marco, grazie. Allora, condivido lo schermo. Condivido lo schermo, schermo due. Ok, ci dovremmo essere. Ti confermo che va tutto bene. Ok, perfetto. Grazie Marco, no, perché vi sono visto. Noi siamo qua, siamo qua. I precedenti. Anzi, un ringraziamento al tecnico che ha venuto a cambiare, che è lì dietro l'angolo. Grazie. Bene, allora, grazie a tutte e tutti che si sono collegati in questo momento e a tutti quelli che vedranno il questo incontro registrato nei prossimi giorni o chi ne vorrà usufruire. Ecco, l'incontro di oggi è allo scopo di presentare questo progetto, progetto della casa editrice Raffaello, progetto Siamo Pari, mettendo insieme anche un primo momento, a mio avviso importante, anche di un pochino di riflessione, rispetto proprio alle al tema, al tema della della parità di genere e a quello che sono tutto ciò che ruota intorno alla all'identità di genere e agli stereotipi che molto spesso anche inconsapevolmente purtroppo agiamo. Il sottotitolo, infatti, di questo di questo progetto è, aspettate un attimo che, ecco, il sottotitolo di questo progetto è proprio, ecco, contrastare gli stereotipi di genere e non solo, perché sappiamo che, ecco, gli stereotipi hanno a che fare con con tante situazioni di differenza e di diversità, forse è meglio dire, per promuovere la cultura, appunto, delle differenze e delle pari opportunità nei libri di testo. Ora, io sono sempre convinta che sia importante inquadrare, fare una premessa che inquadri un po', diciamo, la base da cui parte l'idea di questo progetto, perché questo progetto si inserisce in una riflessione filosofico culturale e anche pedagogica molto ampia, non recente, tra l'altro, perché il dibattito fecondo e stimolante, addirittura, che parte anche dagli anni settanta, ma con il movimento femminista, ma anche con tutta la riflessione dei, che ha a che fare con i cultural studies e le riflessioni postcoloniali, si inserisce appunto nella decostruzione un po' di quello che è il sapere codificato. Infatti in Italia, forse in modo particolare, se ne parla, è un dibattito che è stato fecondo già dagli anni novanta e si inserisce in un contesto in cui si è cercato di riflettere e porsi delle domande. Le domande da cui si parte, da cui parte questa riflessione, sono queste, no? se esiste, se esiste un sapere neutro, se esiste un linguaggio neutro, se esistono dei soggetti neutri, anche nella scuola, i docenti, noi docenti e i bambini e le bambine che apprendono, sono soggetti neutri? Cioè che tipo di sapere viene trasmesso nella scuola? E queste domande, che sono domande appunto che in qualche modo cercano di porre l'attenzione su qualcosa che è stato codificato attraverso un punto di vista, che è il punto di vista culturale della propria cultura. Ovviamente il nostro punto di vista è il punto di vista della cultura, della cultura occidentale e di fatti quando parliamo di scuola, adesso entrando più nello specifico, nell'ambito scolastico, noi vediamo che nella scuola abbiamo quello che è il curriculum esplicito, quindi che ha a che fare quindi con tutti i percorsi codificati, nelle indicazioni, nei programmi, nelle progettazioni, nei curricoli proprio di istituto, che sono i percorsi delle diverse discipline. Ma accanto a questo, accanto a questo curriculum esplicito, abbiamo quello che chiamiamo il curriculum implicito. Il curriculum implicito ha a che fare con tutto ciò che noi in modo a volte inconsapevole trasmettiamo attraverso appunto il linguaggio, attraverso le rappresentazioni del mondo, attraverso appunto i libri di testo, non solo, ma anche attraverso la modalità con cui ci approcciamo nella relazione educativa. Perché? Perché ci muoviamo tutti in un contesto di vita che ha a che fare con dei sistemi simbolico-culturali, che sono quei sistemi che hanno a che fare con quella cultura dentro la quale ognuno di noi vive ed ognuno di noi è formato. E i sistemi simbolico-culturali sono i modi di pensare, sono i saperi codificati, sono le conoscenze che apprendiamo, come ho detto poc'anzi, con cui organizziamo la nostra stessa esperienza e sono quei mediatori che mediano appunto tra noi soggetti e il mondo. E questi saperi, questa struttura culturale e simbolica viene poi trasmessa attraverso tutti i contesti sociali, come vedete da questo grafico, familiari, nonché nella dimensione privata. E' proprio in questo contesto culturale che si formano, si creano quelli che poi, che Freud chiamava totem e tabù. Cioè tutto ciò che è sentito come valore da una da una specifica cultura è tutto ciò che invece è sentito come tabù. Da questo si originano poi dei modi appunto di pensare che molto spesso diventano, si traducono in comportamenti e diventano però a volte appunto stereotipi. La dimensione del genere e qui appunto passiamo ecco al discorso un pochino di inquadrare che cosa significano gli stereotipi e che valenze hanno da un punto di vista della formazione ed educativo. Quindi dicevo, la dimensione del genere è un potente costrutto organizzatore simbolico culturale perché sulla base della differenza sessuale che è biologica tra maschile e femminile, quindi anatomica biologica tra maschile e femminile, in realtà in realtà noi associamo caratteristiche, comportamenti e ruoli sociali differenti tra maschi e femmine, tra donne e uomini. Non solo, ma definiamo anche come sono e come dovrebbero essere le persone in base appunto alla differenza biologica sessuale. Ci creiamo anche delle aspettative rispetto al maschile e femminile. Se un bambino è un bambino maschio, da un bambino maschio ci aspettiamo determinate risposte, determinati comportamenti. Da una bambina femmina ce ne aspettiamo altri, così da una donna e così da un uomo. E molto spesso il genere diventa una funzione normativa e a volte anche prescrittiva, spesso rigida, che non permette il pieno sviluppo della propria personalità, individualità e identità. Infatti, secondo gli stereotipi di genere, cosa siamo portati spesso a pensare e ad aspettarci? Che le donne, per esempio, siano deboli, comprensive, tranquille. Ecco, quello che vedete in questa slide sono tutte quelle caratteristiche che noi attribuiamo in modo implicito, tacito, perché ce l'abbiamo dentro, alle donne e agli uomini, in base, ripeto, alla differenza sessuale. Cioè, siamo portati a pensare che la differenza, il sesso biologico, diciamo, porti, abbia in sé anche qualcosa di psicologico in qualche modo, no? Che anche nel nostro, come dire, DNA ci siano fattori anche psicologici. Quando invece sappiamo che molto, le ricerche ci dicono appunto che molto dipende dall'ambiente in cui si vive e quindi dalla cultura in cui si vive, dall'educazione che riceviamo. Infatti, vediamo questo pensiero che è molto dicotomico, eh? Da una parte e dall'altra. Due mondi, pensiamo, il maschile e il femminile, come due mondi separati. Le donne vengono da, ricordo un libro, no? Che recitava, le donne vengono da Venere, gli uomini da Marte, no? Questi mondi così complementari tra loro, a volte contrapposti e a volte così che poco comunicano, no? Quando invece, ecco, ognuno di noi, ogni persona può essere in realtà in tanti modi. E questo porta poi nella nostra società, ecco, a una divisione dei ruoli sociali in base appunto alla differenza sessuale. E storicamente, storicamente, il mondo dell'oikos, no? Della cura, della casa, della sfera del privato, eh, della delle emozioni, del corpo, eh, delle necessità, ecco, eh, sono state attribuite sempre alle donne. Mentre, ehm, la costruzione della, della maschilità è più legata a una, a cosiddetto logos, cioè alla sfera del pubblico e quindi collegata alla razionalità, collegata all'intelligenza, no? All'azione, alla determinazione, alla professionalità, quindi alla, alla carriera lavorativa. E lo stesso nel linguaggio. Questa, questi, questo sistema simbolico-culturale si esprime anche, lo esprimiamo anche attraverso un linguaggio che fa dell'uso della nostra lingua, una lingua, ehm, sessuata. Perché, mh, è un altro implicito di cui siamo poco, ehm, consapevoli, è che usiamo molto spesso il maschile universale, così, il cosiddetto maschile, eh, universale, neutro e inclusivo. Inclusivo nel senso che, eh, include il femminile. Quante volte, usiamo, ehm, delle, dei sostantivi al maschile per includere anche, anche le, anche il femminile. Questo comporta pensare anche, perché il linguaggio, ehm, esprime il pensiero, quindi esprime una struttura del pensiero, quindi esprime, quindi anche la cultura dentro la quale, ehm, che rappresenta. E quando noi molto spesso diciamo, eh, gli italiani, o gli americani, oppure i bambini, ehm, o quando nei testi, per esempio, presentiamo l'uomo preistorico, i diritti dell'uomo, queste, tutte queste espressioni che, mh, consideriamo come neutre, in realtà sono sessuate, ehm, non, non sono espressioni neutre. In realtà, sono espressioni che, eh, rappresentano un maschile, cosiddetto sovresteso. Il femminile è assente, il femminile non c'è. ehm, è oscurato in qualche modo. Così come tanta, eh, tanta discussione adesso, no? Si sta facendo in questo anche, ehm, attualmente, eh, con la declinazione delle, delle professioni, ehm, che fino a poco tempo fa erano appannaggio solo maschile, adesso invece, eh, sono, eh, professioni che, eh, sono, ehm, espletate, agite anche, anche dalle donne, ma molto spesso continuiamo a usare il maschile, ehm, e una delle, diciamo, delle, delle, delle cose che diciamo che, eh, che non, che non ci piace perché suona, suona male la parola ministra o direttrice o sindaca o architetta, ok? E non ci accorgiamo che in realtà con quelle terminazioni usiamo altre parole che, ehm, che invece, ecco, sono di uso comune e non sentiamo questa, questa presunta cacofonia, no? Per esempio cameriera, lo diciamo tranquillamente, maestra, lo diciamo, infermiera, lo diciamo, operaia, monaca, no? Lo diciamo, ma appunto è come se il, ehm, sentissimo che in realtà, eh, il declinare le professioni al maschile in qualche modo, eh, sia qualcosa di, ehm, di superiore in qualche modo, declinato al maschile, ehm, ha, sentiamo come se, se avesse una connotazione di minor pregio. Il maschile è più, ehm, si sente che, si sente che ha più pregio, è come più, se fosse più, ehm, di livello superiore e questo anche noi donne, molte donne fanno fatica, eh, anche se arrivano a, ehm, a ricoprire, eh, professioni di alto livello, a volte fanno fatica a riconoscere, riconoscersi, ehm, declinate al femminile, proprio perché il maschile si, lo si, lo si sente, lo si percepisce più prestigioso. Questo anche gli stereotipi, per esempio, nei, nei modi di dire, no? Dove si vedono, lo stereotipo molto spesso vi emerge nel momento in cui si rovescia la realtà. Noi non diremmo mai, se leggete le slide, sono modi di dire, no? Che, ehm, rovesciati ci fanno sorridere. Ecco, quando c'è il rovesciamento della realtà che ci fa sorridere, significa che lì c'è, ehm, una rappresentazione di una parte dell'umanità, in questo, in questo caso le donne, che viene sminuita, ok? Perché nel momento in cui ribaltiamo ci fa sorridere, noi non diremmo mai l'uomo è l'angelo del focorale, ci fa ridere, ma il il detto la donna è l'angelo del focorale invece ce l'abbiamo molto dentro al nostri, al nostro, al nostro pensiero, al nostro pensare, così, così, così come uomo al volante pericolo costante non lo diremmo mai, anche se sappiamo molto bene dalle statistiche che fanno più incidenti gli uomini che le donne, per esempio, o, eh, chi dice uomo dice danno, eh, non lo diremmo mai, il lavoro nobilità la donna, non lo diremmo mai, no? Ecco, da qui si vede il, si, 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 emergono quei, quegli impliciti che noi abbiamo e abbiamo assorbito e che in realtà, rappresentano un pensiero in cui l'elemento femminile è spesso è svalutato e sminuito. Non pensare a sesso unico, questo tra l'altro è una, sono delle, delle frasi che ho ripreso da una, da una campagna di qualche anno fa, eh, appunto contro gli stereotipi di genere. Ma pensiamo, ah, al, al punto, ai, ai libri di testo, per esempio, no? Pensiamo al sapere e ai cosiddetti canoni, no? Mh, letterari, filosofici o comunque, eh, della, che presentiamo nella, nelle nostre scuole, ci accorgiamo, se mettiamo, eh, la lente, eh, della prospettiva di genere, ci accorgiamo che in realtà trasmettiamo un, eh, sapere molto, eh, androcentrico, non solo eurocentrico, ma anche androcentrico. E quando i bambini approcciano con l'evoluzione, per esempio, della specie umana, nei libri di testo, ecco, la, la, l'immagine che voi vedete è diffusissima, è diffusissima, eh, come se, appunto, eh, l'evoluzione del maschile, ma l'evoluzione del femminile non c'è, è oscurata, invisibile, così come, eh, la, la proposta di autori che fanno, appunto, che fanno così il canone, diciamo, per esempio, dei percorsi letterari, non solo, ma anche della tradizione, eh, filosofica, sono maschili. Eh, le donne sono, non ci sono, sono invisibili, eh, sono state oscurate. Quindi, ehm, si manda il messaggio che, ehm, la, la presenza delle donne nella storia, nella costruzione della cultura e delle società sia irrilevante, cosa che invece non è reale, non è reale. E quindi, ecco, qui ho messo una prima pagina di un, di uno dei, dei libri, eh, dei volumi della, della casa editrice, eh, dal volume Amico Faro del, di classe seconda, eh, l'ho voluta mettere perché rispecchia, rappresenta, ecco, quello che nel progetto, ehm, siamo pari, abbiamo voluto, ehm, mostrare, abbiamo voluto, eh, valorizzare. Proprio perché la scuola è un luogo di vita che esprime una pluralità, una ricchezza, una ricchezza grande di umanità. E quindi, prendere in considerazione la complessità del mondo e dell'essere umano nella sua interezza e unicità e quindi rappresentarla, rappresentare le differenze, significa riconoscerle e valorizzarle. Ecco, ho voluto, eh, mettere questa, questa, questa pagina perché l'immagine, eh, che, che appunto non solo rappresenta la solidarietà, no? Quindi, ehm, il, l'incentivare in qualche modo le, la relazione, ehm, tra i bambini e le bambine, tra le differenze, è un aspetto fondamentale, poi se pensiamo anche al contesto in cui ci troviamo in questo momento, eh, di, 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 di contrasti, di, di contrasti che portano, mh, a contrapposizioni, eh, ad assoluti, ad assolutizzare posizioni, faccio riferimento ovviamente a quello che stiamo vivendo tutti in questo momento con grande angoscia, no? E, leggo una citazione, ho riportato una citazione di Graziella Priulla nel C'è differenza, un, un nuovo vivere sociale, scrive Graziella Priulla, che nomini e valorizzi le differenze, che ammetta tante possibili identità dai confini mobili, dai confini plurali, non ha bisogno di assoluti, non ha bisogno di posizioni assolute, universali, verità, assodate, ma ha bisogno di relazioni. Ora le relazioni le costruiamo e, ehm, e incentiviamo a costruirle se, ehm, se riusciamo a valorizzare, a riconoscere e valorizzare le differenze e quindi le unicità di ognuno di noi. Allora, andiamo nello specifico, mh, nei libri di testo. Allora, i libri di testo nella scuola, come abbiamo già detto prima, come abbiamo detto nella, nella presentazione di questo webinar, nella scuola sono ancora fortemente lo strumento più rilevante nella, della trasmissione nei saperi. In particolare la scuola, nella scuola primaria, di cui ci occupa questo progetto, si occupa in modo, in modo specifico. E quindi ecco che il libro di testo diventa, può essere lo strumento di trasmissione di stereotipi, oppure può essere lo strumento per, di leva, di una lettura critica del mondo, della realtà e della cultura, come dicevamo precedentemente. E quindi può essere lo strumento, eh, attraverso il quale la scuola può promuovere un cambiamento, può, può, può promuovere una trasformazione e un progresso civile e culturale. Ecco, questo anche per, diciamo, inquadrarlo in, 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 in quello che sono le, delle raccomandazioni che ci vengono, anche, eh, a livello internazionale. Pensiamo all'agenda venti e trenta dell'ONU, pensiamo, pensiamo alla, mh, all'educazione, alla cittadinanza mondiale del, dell'UNESCO, in cui pone la parità di genere tra i diritti umani. Cioè l'educazione e la cittadinanza globale si basa su diritti umani e la parità di genere. E, mh, quindi vado anche un po' più velocemente qui rispetto alle, alle indicazioni. Quindi, anche nei documenti, eh, mh, italiane del, nel, che ruotano intorno alla, alla scuola, ne abbiamo tanti che fanno riferimento all'educazione, alla parità di genere nelle scuole, anche attraverso i libri di testo e non solo. Quindi ci sono delle forti raccomandazioni, pensiamo, ah, ah, alla legge centosette, ma anche nelle indicazioni nazionali per il curriculum, per il curriculum del duemiladodici, è ribadita questa, no? Il, il prestare attenzione all'educazione, all'educazione, al genere, all'educazione, alla, alla parità. Perché, ecco, quindi, la finalità di questo progetto, no? È l'adottare una prospettiva di genere nei libri di testo, significa promuovere la cultura del rispetto delle differenze, attraverso, appunto, la valorizzazione delle diversità, di tutte le diversità. Ecco, un'altra immagine tratta dal, da uno dei volumi della, della scuola primaria, significa favorire, come dicevo prima, le pare opportunità, significa educare alla parità, significa favorire la costruzione di un sapere aperto, un sapere aperto a molteplici sguardi, come dicevamo prima, sono partita proprio da questo concetto, no? Che non esiste un assoluto, che non esiste, esistono sistemi simbolico-culturali che hanno una prospettiva, che è parziale. Ecco, quindi aprire lo sguardo a mondi plurali e multiculturali, perché questo favorisce, quindi, la possibilità di rappresentare una società che è plurale e multiculturale, la società in cui viviamo. Adottare una prospettiva di genere nei libri di testo significa contrastare, come abbiamo detto prima, il, il permanere, il diffondersi di molti stereotipi legati al genere, ma non solo, legati anche al colore della pelle, legati all'etnea, legati alla cultura, legati alla, alla, all'abilità, e tutto questo, quindi, attraverso i libri di testo si può educare, quindi, al genere, che l'educazione al genere e l'educazione rispetto alle differenze fornisce ai bambini e alle bambine gli strumenti per una consapevolezza maggiore di sé e del mondo e anche per esplorare i propri desideri perché molto spesso gli stereotipi di genere nella costruzione, come abbiamo visto, rigida del maschile e del femminile, così dicotomica, molto spesso sono delle gabbie che impediscono di pensarsi all'interno di propri e unici desideri non solo, quindi, educare al genere, educare al rispetto delle differenze e della valorizzazione delle differenze valorizza le singole individualità al di là, appunto, del genere e delle differenze e quindi oltre gli stereotipi può contribuire a prevenire forme di violenza e discriminazioni basate sul genere e non solo apre la mente alla complessità come abbiamo detto del mondo in cui viviamo e poi, non da ultimo è un diritto fondamentale di ogni soggetto che cresce ecco, è un diritto fondamentale essere, poter ricevere poter essere educati ricevere una formazione attenta che sviluppi il rispetto e le pari opportunità è un diritto fondamentale di ogni soggetto che cresce ce lo dice oltretutto la nostra costituzione quindi è un diritto anche costituzionale allora andiamo nello specifico quindi al progetto come che cosa abbiamo fatto finora ho mostrato queste sono due copertine della Scopro Leggendo 4 e Amico Faro letture 2 della produzione appunto del ministeriale del per il prossimo anno scolastico per la scuola primaria e quindi come appunto caso editrice Raffaello cosa abbiamo fatto sulla scia del progetto Polite a cui accennava Marco prima e cioè pari opportunità nei libri di test scolastici che è un progetto europeo di autoregolamentazione che è stato ha avuto la sua è stato sperimentato in un paio d'anni tra la fine degli anni 90 i primi del 2000 era un progetto di appunto di autoregolamentazione per l'editoria scolastica con l'obiettivo appunto di promuovere una riflessione culturale didattica ed editoriale il cui esito fosse proprio quello di ripensare libri di testo in modo che donne e uomini ma adesso aggiungiamo tutte le differenze fossero protagonisti della cultura della storia della politica della scienza senza discriminazioni e questo ha prodotto un codice di autoregolamentazione cioè delle linee guida per la produzione dei futuri libri scolastici quindi noi partendo dal politico cosa abbiamo fatto? Il primo step come ricordavamo prima è stato quello di fare un corso di formazione per operatrici operatori editoriali tutta tutta la casa editrice Raffaello ha fatto questo percorso di condivisione su tematiche interculturali e di genere per avere proprio uno sguardo condiviso su questo e su questo tema aumentando anche la consapevolezza perché come abbiamo visto è una è fondamentale partire da sé perché non essendo appunto come dicevamo prima soggetti neutri ma ognuno di noi è soggetto sessuato e ognuno di noi ha ricevuto un'educazione al genere e quindi un'educazione anche molto spesso appunto piena di stereotipi che abbiamo dovuto decostruire prima di tutti in noi stessi per diventarne consapevoli quindi un corso di formazione in cui abbiamo condiviso queste tematiche poi il secondo step è stata la stesura di linee guida che la casa editrice poi ha condiviso sia internamente che con tutti le collaboratrici e collaboratori esterni e poi la costituzione di un team per la revisione dei libri di testo appunto ministeriali per la scuola primaria 2022-2023 nel senso che siamo partiti per il momento dai testi della scuola primaria il team di costituzione che si è costituito di cui faccio parte di cui fa parte anche Chiara Michelon e Maddalena Candelaresi con cui abbiamo condiviso appunto la revisione che adesso vediamo come mostrerò come abbiamo lavorato sui libri di testo in questi ultimi mesi devo anche dire che questo progetto che si è avviato è grazie anche allo stimolo all'input e alla passione devo dire soprattutto di Emilia Agostini che è la responsabile per la scuola primaria della casa editrice Raffaello è stata è stata lei che ha dato l'input e che ha creduto fortemente in in questo progetto coadiuvata anche da da Valentina Sabatini e da tante altre tanti altri operatori operatrici della della casa editrice e quindi qual è stato il lavoro sui testi che abbiamo fatto si è si è concentrato soprattutto su queste su questi elementi sul linguaggio usato sulle illustrazioni sui titoli del dei vari dei vari testi proposti sulle consegne che sono che fornite nei vari testi per per le varie attività proposte ai bambini e le bambine e e sui contenuti ho messo questa questo prima questa prima pagina che riporta poi la la un'immagine che avevo già preso avevo già utilizzato prima ecco per farvi per mostrarvi che tipo di lavoro abbiamo abbiamo effettuato per esempio in questa pagina che presenta una 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 filastrocca che è tutta al maschile e tu che tipo sei sei allegro divertente guardo di là nello schermo perché è più ampio c'ho uno schermo un pochino più ampio qui lo vedo più piccolino riesco a leggere sei allegro divertente curioso ottimista tranquillo è tutta delchinata al maschile allora dove sta l'attenzione l'attenzione quindi quello sguardo alla parità di genere quello sguardo che fa sì che che il femminile abbia una sua visibilità ecco nella nelle attività nelle attività abbiamo proposto proprio questo cioè abbiamo messo il focus cioè abbiamo detto questa filastrocca è rivolta a un bambino maschio quindi l'abbiamo come posso dire evidenziato non l'abbiamo non l'abbiamo lasciato come implicito ma l'abbiamo evidenziato è rivolto a un bambino maschio ora provate a leggere la filastrocca a una vostra compagna immaginate che questa filastrocca fosse sia rivolta a una compagna quindi declinatela e quindi c'è anche un lavoro didattico perché i bambini e le bambine qui fanno un lavoro anche di trasformazione da un genere all'altro di tutti gli aggettivi che sono declinati al maschile e che poi vengono declinati al femminile quindi rivolti ad una bambina quindi qui ovviamente il testo è riportato così come l'autrice lo ha scritto ma c'è stata posta un'attenzione l'attenzione appunto all'attenzione al genere mostro un altro esempio nella in questa nell'illustrazione a destra a sinistra vedete come il testo era stato proposto precedentemente qui per esempio è stata proposta una poesia di Aldamerini intitolata Bambino anche questa Bambino è al maschile e c'era in effetti nella rappresentazione vedete nella raffigurazione nel disegno c'era un bambino con un aquilone anche qui non abbiamo non l'abbiamo lasciata implicita questa cosa l'abbiamo esplicitata e infatti abbiamo messo proprio un asterisco che richiama e che dice che dice guarda questa poesia nonostante il titolo anche se il titolo è al maschile però si rivolge a tutti si rivolge alle bambine e ai bambini e infatti poi l'immagine è stata modificata e sono stati rappresentati nell'immagine vengono rappresentati sia una bambina che un bambino che giocano con con gli aquiloni la stessa cosa abbiamo fatto ecco questo per dire l'attenzione al linguaggio inclusivo la stessa cosa abbiamo fatto nel abbiamo abbiamo attivato nei titoli per esempio in una lettura che aveva a che fare con con la con la nascita della con la la mansione dello scriva ecco diventare un bravo scriva l'abbiamo cambiata con dei titoli che sono più generici cioè che possono includere tutti allora la scuola delle tavolette perché se io penso diventare un bravo scriva bravo un bravo scriva immagino immediatamente che sia il maschile invece sappiamo tra l'altro che in alcune società alcune civiltà scusate in qualche caso in qualche caso anche le anche alle bambine era 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 data opportunità di accedere alla alla pratica della scrittura e quindi la scuola delle tavolette alla scuola delle tavolette possono andare bambini e bambine e la stessa cosa qui in questo testo abbiamo sdoppiato quando era possibile le parole i due generi che chi trova un amico trova un tesoro dice il proverbio anche questo declinato al maschile però nel testo abbiamo inserito entrambi i generi quindi il proverbio dice questo avere buoni amici e buone amiche con cui confidarsi ok altrimenti il testo era tutto declinato al maschile ma le bambine il femminile le bambine hanno bisogno di sentirsi rappresentate ci sono anche loro ok quindi avere amici buoni amici e buone amiche noi abbiamo aggiunto con cui confidarsi e bene no anche nella consegna della riflessione al testo chi trova un amico o un'amica eh è fortunato sfortunato ecco avere amiche e amici veri fa bene alla salute ecco quindi l'attenzione a che le differenze possano venire rappresentate e che il femminile non sia invisibilizzato cosa che come dicevo prima molto spesso a cui molto spesso non facciamo caso è invece molto importante la stessa cosa abbiamo fatto per quello che riguarda le professioni molto spesso sono presentate sempre al maschile l'archeologo il fotografo il biologo come se le donne come dicevamo prima non contribuissero non ci fossero non non fossero presenti con le loro abilità le loro competenze nella costruzione della scienza del sapere e della cultura di cui facciamo parte e quindi proponiamo la fotografa come proponiamo l'archeologo e l'archeologa come proponiamo come dicevo prima non più l'uomo preistorico con l'uomo con la grande questo uomo universale che in realtà non è neutro come dicevo ecco perché sono partita da quella riflessione no l'uomo non è neutro l'uomo quando questa parola indica il indica il genere maschile quindi abbiamo preferito parlare di l'era dell'essere umano l'era della specie umana perché il il l'uso di questa di questa espressione è un uso inclusivo dentro ci si includono tutte le differenze quando io parlo di essere umano e non parlo di uomo preistorico ma parlo di essere umano parlo di specie umana la stessa cosa questo è un altro è un esempio di consegne che dicevo prima per esempio quando proponiamo di di lavorare insieme a una compagna un compagno diciamo un accompagno un compagno non lavora insieme a un compagno no lavora insieme a una compagna o a un compagno lavora insieme lavora insieme alla classe ecco parliamo di classe nella classe ci sono bambini e bambini ecco l'altro ambito in cui abbiamo siamo intervenuti sui testi è anche nelle illustrazioni come cercando di evitare il più possibile quegli stereotipi diciamo un pochino più abusati e quali sono per esempio il colore il colore che viene viene associato al maschile al femminile il rosa in modo particolare il rosa che è prettamente femminile le bambine rappresentate sempre con con il colore rosa o o ecco con molti nastrini belletti no in qualche modo ecco abbiamo voluto rappresentare modificare come avete visto cercando di inserire evitare cioè come dicevo prima quelli quei colori che riportano a una separazione a una divisione dicotomica tra il mondo maschile e il mondo femminile fatta anche dai colori perché anche i bambini purtroppo a scuola molto spesso hanno ce l'hanno dentro no questa questo uso del colore per cui il rosa e delle femmine guai a proporre il rosa a un maschio e anche qui come vedete abbiamo cambiato i colori la bambina ecco non non evitando fiocchi comunque non fiorellini non perché non ci siano ma perché il sovr l'abuso ecco cioè quella rappresentazione monotematica ecco abbiamo voluto dare anche sia del femminile che del maschile anche delle rappresentazioni plurali perché non tutte le bambine amano rosa per esempio non tutte le bambine amano o le ragazzine amano vestirsi con con vestiti o colori in modo stereotipato che noi riferiamo al al femminile nelle illustrazioni abbiamo cercato anche di reperire repertori fotografici nuovi che possano rappresentare in modo più adeguato e fedele la la realtà come dice come come dicevo prima plurale del nostro mondo e come vedete la scelta delle 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 fotografie delle immagini fotografici fotografici hanno anche fanno anche se è difficile ehm trovarne reperirle però ecco c'è stato questo sforzo comunque di eh poter fare in modo che le le differenze possibili venissero rappresentate proprio perché le bambine e i bambini anche di sia di genere ma anche di di provenienza di etnia eh possano vedersi possano sentirsi rappresentati possono ehm dirsi eh di esserci e di far parte di una comunità che è quella appunto della scuola che è quella della 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 comunità in cui in cui vivono in cui magari sono stati accolti in cui eh oppure in cui sono nati magari nonostante provenissero magari da da altri paesi no in cui sono nati perché se si ognuno si possa sentire ognuno ognuno si possa sentire partecipe ecco un altro ambito in cui siamo ehm siamo che siamo intervenute comunque ecco abbiamo sollecitato è la proposta di contenuti differenti eh rispetto per esempio a tutto quello che è il 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 mondo delle fiabe no? Le fiabe molto spesso le fiabe quelle classiche sono rappresentano anche se sono una un genere letterario eh molto importante e da conoscere però molto spesso riportano figure mh di maschili e femminili molto stereotipate ecco noi abbiamo voluto anche eh anche accanto alle fiabe tradizionali proporre anche dei contenuti differenti cioè delle figure delle rappresentazioni delle narrazioni di un maschile e femminile differente qui per esempio abbiamo Corinna Corinna che che è una principessa ehm la quale è lei che va è lei che parte per un viaggio alla ricerca del principe azzurro ok? Quindi c'è la decostruzione un pochino no? dello stereotipo che vede invece la principessa sempre rinchiusa nel castello e che un baldo principe va o a svegliare o a salvare no? Qui è lei che si fa che si autodetermina è lei che sceglie la propria strada è lei che sceglie poi alla fine sceglierà il suo il suo principe è lei che si autodetermina non è lei che passivamente eh eh riceve no? la la l'azione di un principe e di qua il cavaliere gentile ecco eh abbiamo voluto mostrare appunto la rappresentazione di un di un di un principe di un cavaliere che ha nelle sue nei suoi comportamenti tra i suoi comportamenti ha la gentilezza eh quindi una maschilità che non è detto che sia che debba per forza esprimersi attraverso l'aggressività attraverso la combattività attraverso anche la violenza ma attraverso la gentilezza altro altri contenuti per esempio ecco una raffigurazione del maschile come vedete nella 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 lettura in viaggio con la mamma il viaggio della mamma dove eh viene rappresentato un papà viene rappresentato un un papà che si prende cura della bimba perché la mamma è è in viaggio per lavoro ehm e quindi come dicevamo prima no la 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 sfera dell'oicos la sfera della della del privato della cura che non è appannaggio solo delle delle donne ma che ha a che fare con la nostra umanità ok uomini e donne è la nostra umanità che fa sì che noi siamo predisposti alla cura non è il il la differenza sessuale non è il sesso in cui il corpo sessuale in cui nasce nasciamo che ci predispone alla cura o meno ok però questo è uno stereotipo no è uno stereotipo quello che appunto vede le donne in casa dedicarsi qui abbiamo voluto eh una rappresentazione diversa del maschile un maschile che sa è in grado di prendersi cura ehm e dall'altra parte per esempio un femminile mi piace Spider-Man no dal tratto da questo da questo racconto in cui una bambina è appassionata di questo eroe eh che di questo eroe questo supereroe che in realtà sembra è visto come ehm un elemento è un eroe maschile ma lei dice sì a me anche a me piace Spider-Man perché non è possibile perché io no perché non mi posso identificare con lui no anche ecco nella ehm a casa di Elisa ehm cerchiamo di proporre per esempio anche la possibilità di relazioni diverse tra maschi e femmine i bambini e le bambine hanno bisogno di ehm di scoprirsi ehm in relazione perché il la conseguenza di educare a questi a questo mondo diverso a volte molto separato dicotomico no del maschile e del femminile tant'è vero che ci sono giochi da maschi giochi da femmine questo mondo blu e questo mondo ehm rosa fa sì che in realtà non sperimentano l'amicizia tra maschi e femmine quando invece in questo in questa poi fase evolutiva della dell'infanzia è fondamentale perché l'amicizia ha a che fare con la fiducia l'amicizia ha a che fare con anche la la conoscenza reciproca ha a che fare con il rispetto reciproco se non lo sperimentano tra maschi e femmine eh nella nell'infanzia durante la la fase eh dell'infanzia poi quando ehm quando sono più grandi eh è è difficile è molto più difficile mh che si creino si possono creare anche quelle complicità e molto spesso invece eh abbiamo poi adolescenti che ehm costruiscono relazioni ehm molto molto come posso dire anche difficili di di relazione e di rispetto ehm tra maschi e femmine ecco e mh e anche qui vado avanti magari più più celermente ehm anche qui ecco un maschile e un femminile proposto eh in modo eh diciamo plurale ehm proprio nell'ottica che ognuno al di là del genere al di là degli stereotipi eh di genere relativi al maschile e femminile possano trovare ognuno la propria ehm la propria identità e soprattutto poter ehm sognare e desiderare ciò che veramente vuole diventare e vuole essere cioè la propria la propria la propria identità la propria indole diciamo eh e quindi vediamo due due bambine ecco una più predisposta a certi a desideri altra l'altra bambina ad altri desideri lo stesso in quest'altra ehm in quest'altra lettura molto interessante no facciamo i braccialetti un bambino maschio che è interessatissimo gli piace fare i braccialetti ma lo fa di nascosto lo fa di nascosto perché ha paura di essere preso in giro perché il fare braccialetti è da femmina poi c'è l'altro bambino che invece mh ha superato questo e gli dice guarda che a me mi importa proprio niente a me mi a me piace questo questo gioco e io lo faccio no lo faccio non non mi interessa perché dovrei non dovrei farlo se è un gioco che mi diverte e quindi fa la specchia e quindi anche qui la proposta appunto di di decostruzione un pochino no dello stereotipo per cui il calcio è solo maschile e il ballo è solo femminile ecco queste sono alcune proposte che differenti e altro altre sezioni per esempio dedicate alla alle figure femminili neanche nella storia perché come dicevo prima sono molto sono spesso oscurate non prese in considerazione e invece è importante che anche che le bambine si possano possano capire sentire che la storia del loro genere ha contribuito alla costruzione della 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 propria della cultura ha contribuito all'evoluzione della storia e che possono anche rappresentarsi in futuro come scienziate o come pilote o come artiste e quant'altro insomma ecco io spero di non aver sforato più di tanto ma eravamo già un pochino in ritardo grazie per l'attenzione eravamo partiti in ritardo quindi abbiamo sforato noi diciamo sempre che chi segue i nostri webinar sa benissimo che non siamo la RAI non siamo la Sette non siamo impostati e ci piace fare delle belle chiacchierate e stabilire un dibattito una uno scambio di idee infatti sono arrivate molte domande io però non ho tempo di leggerle tutte e quindi ecco adesso sono io che devo selezionare ed è un problema però per statuto non leggo i complimenti e quindi non te li giuro nemmeno un complimento uno te lo leggo però ah grazie per il male no perché ne ho più no perché so questa no veramente complimenti complimenti assolutamente e guarda è stato veramente un piacere io poi avevo dentro di me forte il ricordo di una di una collaborazione con Cinzia Rion una pedagogista che a me piace da morire un nuovo riferimento un titolo che ha proposto era uomini e donne si nasce maschi e femmini si diventa quindi ecco mi era piaciuta molto la scienza mia maschi e femmine si nasce uomini e donne si diventano al contrario io mi sono inciacciato ma tanto è normale tipico detto anconetano perché sto facendo più cose insieme adesso io non saprei dirla questa vedi che mi viene fuori sto facendo più cose insieme il detto che voi donne riuscite a farlo gli uomini no si può dire o non no appunto è qui che nasce da queste cose io leggevo parlavo e non ce la faccio a dirmi di più discorso che facevamo prima in realtà ognuno ha la propria unicità ecco è quello il discorso e ognuno ha diritto a crescere e formarsi rispetto alla propria unicità al di là appunto degli stereotipi legati al maschile e femminile che possono ingabbiare in qualche modo è questo diciamo il problema di base insomma assolutamente allora ne leggo qualcuna mi dice la maestra Franca ho notato delle immagini delle pagine dei testi proposti che viene data attenzione anche ad altre diversità oltre a quella di genere come quella etnica anche questa è stata una scelta editoriale precisa sì 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 come dicevo prima c'è stata assumere un'ottica un'ottica di genere fa sì che si ha attenzione a uno sguardo plurale cioè si fa nel momento in cui si riconoscono si riconoscono la differenza più radicale tra le persone radicale nel senso che è la differenza originaria nel senso che la differenza biologica sessuale tutti nasciamo come dicevo prima da un corpo un corpo un corpo sessuato quindi è la differenza radicale diciamo ma nel momento in cui vado a riconoscere questa differenza e a valorizzarla non posso non aprire lo sguardo all'inclusione di tutte le altre differenze quindi è come dire è uno scarpo in qualche modo che viene naturale ecco nel momento in cui siamo attenti alle differenze di genere e valorizzarle per forza siamo portati a valorizzare l'unicità di ogni individuo al di là quindi del genere quindi al di là della provenienza culturale del colore della pelle e quindi lo sguardo si apre si apre alla pluralità e la complessità degli esseri umani come appunto dicevo prima nella premessa quindi sì certo certo allora Carmen che è un'amica della casa editrice si segue e mi scrive questo è un po' un complimento c'è un testo del 1973 coletto e riletto più volte e che ancora oggi fa scuola dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti ascoltando l'ottoressa Candelaresi mi sembra di ascoltare e di leggere molti passaggi e no di cruciale di quell'opera fondamentale grazie Raffaello per questo incontro io non la conoscevo quindi grazie di aver visitato eh sì è proprio così è il testo base di partenza che come diceva appunto chi ha mandato il messaggio è un testo del 73 pensate del 73 ed è sorprendente che andandolo a rileggere oggi nel 2022 purtroppo purtroppo dobbiamo dire che molti aspetti e molte delle riflessioni che la Giannini Belotti faceva allora sono ancora attuali quindi nel senso che abbiamo della strada da fare ed ecco perché è così importante eh il progetto siamo pari della casa editrice Raffaello perché come dicevo prima il libro di testo è fondamentale per poter mh proprio andare verso questa scia per promuore promuovere per mh per dare un input a che mh ecco si lavori si costruisca una società più paritaria relazioni più eh più più appunto più paritarie e anche più felici direi io speriamo speriamo allora un complimento per te Orietta professoressa e anche per tutta la realizzazione che voglio leggere perché mi piace è una constatazione Barbara la maestra Barbara ci dice sono molto colpita dalla serietà e profondità del lavoro che state facendo sui libri di testo complimenti quindi questo è importante lo facciamo tramite le persone che con le quali abbiamo piacere di collaborare in questo caso Orietta senti io domande ce ne ho ce ne ho un'altra te ne faccio una po' provocatoria visto che già prima mi sono come dire confuso tra maschio e femmine adesso te ne spauro una lì e vediamo come reagisci va bene allora adesso la maestra Paola mi dice nella scuola la disuguaglianza di genere sembra rovesciata perché i docenti ma anche i dirigenti ormai sono solo per la maggior parte donne le bambine e i ragazzi sono più grave con il rendimento scolastico dei maschi anche nella società ormai le donne sono quasi tutte dappertutto a vederla così la lotta la parità di genere tra donne e uomini sembrerebbe superata lei cosa ne pensa? oh questa è una domanda come dire abbiamo già sforato gli altri due minuti ecco no però è una domanda è una bella domanda è una bella domanda anche perché scusate se interrompo io ho il piacere gli anni di andare nelle scuole sui comprensivi effettivamente il DS è via le scuole che sono tutte le trovate uno su mille no questa è una domanda interessante interessante perché perché dimostra come appunto il tema del genere nella scuola non viene percepito come problematico come problema da porre anche in esperienza mia personale con le colleghe con le colleghe di scuola perché anch'io sono una docente quando pongo il problema mi dicono proprio questo cioè nella scuola proprio perché c'è questa tra virgolette si chiama proprio termine tecnico femminilizzazione ok della scuola ma anche di molti settori lavorativi della società non viene non viene percepito o se viene percepito ma allora è ribaltato in realtà come dire la questione è è una trappola in realtà è una trappola perché se ci facciamo caso noi io dico sempre la mia risposta che do dico sempre allora noi donne non siamo una minoranza le donne non sono una minoranza sono la metà del genere umano e quindi facciamoci una domanda se tu il 98 99 per cento delle donne delle delle insegnanti sono donne e le troviamo nel nel 99 per cento della scuola dell'infanzia 98 per cento nella scuola primaria ormai più o meno anche nella scuola media ok già nella scuola superiore c'è una presenza maschile maggiore ok allora la domanda è ma se noi siamo appunto visto che siamo la metà del genere umano siamo per la per una maggior maggior parte tutte qui io faccio sempre questa domanda se siamo tutte qui dov'è che non siamo invece allora qui ecco allora qui comincia esatto comincia un attimo una riflessione dove non siamo non siamo a a vedere bene in tutti quei ruoli apicali della società ma anche della scuola perché se noi più ci alziamo di livello e più più scompariamo allora abbiamo detto scuola primaria dell'infanzia poi man mano scuola superiore e gli uomini cominciano a essere in più poi se andiamo all'università negli accademici i cosiddetti docenti di primo livello cioè vediamo che le proporzioni si invertono in una maniera spropositata in una maniera anche nelle facoltà umanistiche tra l'altro anche nelle facoltà umanistiche i docenti che sono docenti di primo livello per la maggior parte sono uomini non parliamo dei rettori in Italia non mi stai forse dicendo che poi la politica per ovviare tutto questo provuove a ministro qualcuno con una capacità solo per il genere nel senso che eh no nel senso che ehm si ha a livello sociale ehm si chiama c'ha proprio una una dizione si chiama segregazione formativa e ehm e lavorativa nel senso che perché le donne sono tutte noi parliamo di scuola ma se ci allarghiamo ad altri contesti noi vediamo che gli settori cosiddetti femminilizzati sono tutti quelli della cura le infermiere ma per la maggior parte ci sono anche gli infermieri ma per la maggior parte anche nei settori sanitari a livello base attenzione a livello base sono per la maggior parte donne poi però anche in quei settori lì più ci si alza di livello e quindi anche stipendiale eh misteriosamente ma non misteriosamente per 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 chi studia questi questi fenomeni sociologici eh si invertono le parti è quello che eh si chiama il cosiddetto soffitto di cristallo cioè le donne a un certo punto hanno la carriera sbarrata per un tutta una serie di situazioni culturali e stereotipi di cui dicevamo prima ehm che fanno parte appunto di quella struttura della nostra società che vede ancora le donne relegate nei ruoli di cura e gli uomini invece liberi dalle necessità che hanno libertà e opportunità maggiori nel poter eh diciamo scalare la carriera eh e anche rispetto proprio a una discorso di fiducia ecco gli uomini la figura maschile viene eh più spesso di quella femminile eh rivestita di 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 fiducia anche nei ruoli eh diciamo più più apicali ho risposto non so molto ok non ho niente da oggettare ok Orietta io avrei altre domande ma purtroppo siamo veramente fuori tempo massissimo ti voglio ringraziare perché sei stata molto chiara e precisa e soprattutto perché hai hai messo una passione tale che comunque sia è quello che vogliono sentirsi dire i nostri utenti cioè vogliono capire che la Raffaello fa dei bellissimi testi dal punto di vista della grafica dal punto di vista dei contenuti delle scelte pedagogiche ma che non dimentica nulla soprattutto fa grande tesoro delle professionalità che incontriamo come la quindi grazie è stato un terzo ti ringrazio anche delle slide perché ho ricevuto molti complimenti e queste slide adesso con calma le riceveremo e dal lunedì non prima da lunedì tarda mattinata le troverete scaricabili in pdf direttamente nel nostro sito quindi grazie ancora buon fine settimana a tutti grazie a te Marco grazie a tutti voi bene alla prossima grazie a tutti